...durge sul sagrato la statua di Santa Rita, coperta da rosse rosse che le cose le hanno voluto donare. Dio Santa Rita! Dio Santa Rita! Tantissime le rosse che le cose le hanno donate alla Santa. Dopo il solenne pontificare verranno benedente e poterle portare a casa, come sempre il profumo della presenza di vita della nostra vita. Viva Santa Rita!